come sta lennie? lennie sta così così si può avere un altro scotch? lui è quello che ha palecchia meglio, un'altra forchetta, vedo residui di cibo qui che dicono le altre persone di me? la maggiore critica che ti fanno è che hai troppi problemi a ridere di te stesso è incredibile, sono la persona più divertente che conosco potevamo sposarci e avere dei figli si? tu dici? ho letto un articolo, dice che voi ragazzi scopate su internet scusami, è solo che non mi va di passare da fare solo sesso a fare solo sesso a fare solo sesso chi è il terzo fare solo sesso? sei tu, se l'avessimo fatto cara American Airlines, caro servizio taxi per animali caro sindaco Bloomberg, sapessi a chi scrivere una lettera sulla stupidità del mondo lo farei? il vecchiare è una cosa strana ti guardi e dici, ma che cazzo succede? lo so, la giovinezza è sprecata nei giovani lui non è come noi, è come se un sacco di cose assolutamente normali per lui sono difficilissime io ho 41 anni, dovrei saper guidare, cavolo e che fai? te la prendi con me? sembra così vulnerabile mi scuso per quello che mi riguarda non è chiedermi scusa beh ma chiedere scusa è difficile grazie a tutti grazie a tutti